Invitiamo la Giunta e l'assessore a muoversi in modo da mettere in campo le misure più opportune per fare quello che stanno chiedendo le associazioni dei disabili da più di un anno, cioè riuscire a colmare quello che è un vuoto, un'incertezza lasciata dalla legge del Rio che non ha chiarito bene di chi siano le competenze, soprattutto nel caso della città metropolitana, per la raccolta e la gestione delle domande e del servizio di assistenza in ambito scolastico per ogni ordine e grado degli assistenti alla comunicazione e per i ragazzi delle scuole di secondo grado per l'assistente all'educazione e il trasporti. Quindi chiediamo che venga, che si faccia promotrice anche verso il Presidente del Consiglio e il Ministero dell'Istruzione affinché si chiarisca esattamente di chi sono le competenze e si riattivi urgentemente l'accoglienza della richiesta da parte delle famiglie di attivare questo servizio per i propri figli.